La RENNA 2016 fa i conti con l'ambiente. Siamo con il dottor Vito Magnante di Ecorecerca SRL e parliamo della scuola di alta formazione nella gestione dei rifiuti. Quali sono gli obiettivi e qual è l'approccio? L'approccio della scuola è legato a quelli che sono i contenuti del festival nella quale si inserisce questo evento formativo. Abbiamo cercato di coniugare l'esperienza di vari docenti che hanno esperienze professionali sia in campo giuridico che in campo tecnico, quindi legando le diverse expertise tra teoria e pratica con la doppia visione di una matrice ambientale molto sensibile come quella dei rifiuti.